Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, sono stato un po' scente perché ho avuto parecchio da fare Oggi c'è il grande ritorno su The Forest, lo continuiamo, ho fatto un po' di cosette, mi sono sistemato Però ho finito tutto il materiale, quindi oggi andremo a cercare del materiale, esplorare un paio di grotte che ho trovato Ok, allora, vi faccio vedere, queste sono due creepy armor, cioè le armature quelle droppate dai boss e sono quasi complete Cioè, sono due armature quasi complete, no, sono complete, sono due armature complete perché qua non posso metterlo, non so perché Boh, non lo so, comunque sono due armature complete Poi Ho fatto Se tutto ciò che ci siamo, beviamo un po' Ho messo intanto questi bellissimi teschietti, molto graziosi che mi illuminano un po' la zona perché era veramente buia Qua devo ancora finire di costruire sta pedana Questa è la finita, che questa è la pedana che ci porta Qua sopra Dove avremo la zona del magazzino con le scorte, quindi scorte di boccette, scorte di merendine Medicinali e robe varie Ovviamente ho messo, come vedete qui, c'è un casino di corde perché mi è già capitato di essere là in fondo a costruire Essere attaccato dagli indigni e non avere appigli, doveva fare tutto il giro Fin qua, salire, allora ho detto no, 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 mettiamo giù delle corde Che così è molto più facile salire e scendere Sono iniziati a ricrescere gli alberi, cosa molto bella perché come vedete qua c'era una foresta Era tutto così, adesso hanno iniziato a ricrescere così posso finire questo benedetto ponte che mi porterà Fino Alla casa, dove sto ancora costruendo, dove ancora costruire ma Ci vorrà un sacco Ah, sui gabbiani, va bene Andiamo un attimo a esplorare prima questa grotta che avevo già scoperto Ascendiamo la luce Accendino la luce fu PS, non ho preso niente da mangiare io Non tanto buono, eh C'è nessuno Mannaggia Qua Ehi Qua si va da qualche parte qua sotto Beh, vabbè, lasciamo Una pentola Cos'è che Dinamite Venga Flare, flare Ok, sono gli flare Barrette Oh mio dio Abbiamo il cibo Allora, questi qua io Se non ricordo male, li avevo già accoppati Ok E anche i due Rompimballe che ci sono qua Che mira, raga Che mira, raga Che mira, raga Raga Aspettate Quello che voglio sapere è dove Che si riesca a scendere dal di qua Ci proviamo C'è ancora il mio, il mio focolare che avevo fatto Allora Recuperiamo le frecce Accendiamo il falò E ce lo sbattiamo sopra a grigliare L'ho visto L'ho visto Infami Quello si è incastrato Intanto Vediamo una sbloccata Ha sbattuto a cabeça Bravissimo Grazie per il dente Raga Abbiamo trovato Finalmente Il nascondiglio Abbiamo Tutto Qua ci sono dei vestiti Qua C'è l'esplosivo Prendi Frecce moderne Frecce moderne Vestiti Barrette di cibo Questo Cosa è sta roba Traumi Va bene Pennello Ho un pennello Che ci faccio Un pennello Ah si dipingono le case E mori le case C'è una cassetta Prendila Spaccato Altre frecce Candelotti di dinamite Non so cosa erano Sassi Ford Scotch Lattine Lattine Accendi Accendi Accenditi L'ascia Abbiamo un'ascia devastante Adesso Ascia moderna Ci manca L'arco Moderna Abbiamo questo Questa è importante Altre frecce Mi date solo le frecce Non mi date l'arco Stronzi Volevo dire Poco gentili C'è tutto qua Va bene Abbiamo un'ascia devastante Quindi probabilmente Dimezziamo anche Il tempo di abbattimento Degli alberi Se ci attaccano Gli indigeni Sfracassiamo la testa Con un uovo Possiamo prendere I pezzi Della pistola Siamo salvi Tanto ci sono le monete Tanto per cambiare Medicina Che non possiamo prendere Cabeze Ups Qua però Le valigie Si sono rigenerate Cioè si rigenerano Dove vogliono loro Quando vogliono Dopo 2500 anni E dai Che erano ste palline Basta Non ne voglio più Altre pile Ci siamo pieni di pile Farrette Bombolette Non possiamo Quante pile abbiamo 8 8 pile abbiamo Cioè vi rendete conto Una roba assurda Cioè stai via Un paio di giorni Ti riducono a casa Così Vengono Fanno i festini E guarda che cosa Che casino Ma che casino Ma che casino È venuto fuori Pazzesco Olè Ok bastoncini 20 di 20 Do Cavolo stanno Sti 20 bastoncini Ok Io vi ricordo Allora di Commentare Iscrivervi Sono pezzi Vi ricordo di Vi ricordo di Commentare Iscrivervi Lasciare dei like E condividere Se questo video Mi è piaciuto Lasciare tantissimo Ciao 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 Grazie per la visione!